Alleluia, 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 Alleluia. Secondo Giovanni, Alleluia, 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 Alleluia. In quel tempo, Gesù ha dato gli occhi al cielo, credo dicendo, Padre Santo, non credo solo per questi mani che gli crederanno, non credo sia un'altra cosa, come un Padre senza il Medio, se non è che il Signore, non credo sia un'altra cosa. E la propria dignità è che io lo dava con lui, perché il Signore non ha nessuna cosa, ma io non ho iniziato con una sola cosa, io ricordo con me, perché il Signore è perfetto, nell'unità, e come lo conosca, come lo andava, e che nella casa, come lui, taglia la mano. Parla proprio che i figli che mi erano siano chiesti con me, dove sono io, perché con te. La mia vita, quella che mi aiuta, potrebbe aiutare l'unità della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo, non ti ha conosciuto, ma io non ho conosciuto, e questi anni ho conosciuto, perché tu ti hai pagato. e io non ho conosciuto, non ho conosciuto, e tu ti hai pagato. E tu ti hai pagato, e tu ti hai pagato, e tu ti hai pagato. E tu ti 3 E tu ti hai pagato, e tu ti hai pagato. Grazie.